Il pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma che oggi era qua in conferenza stampa con Borrelli abbiamo chiesto una lettura di questi dati ed è stata abbastanza ottimistica, sentite. Credo che siano numeri che ci debbono fare riflettere perché ci incoraggiano nel messaggio che è stato dato dai nostri politici, dai nostri esperti che con i nostri comportamenti salviamo delle vite. Vediamo il riflesso sui nostri concittadini che a quello che ci dicono i dati e il trend che sta andando muoiono meno e vengono ricoverati meno in terapia intensiva. Le due cose che vanno in parallelo mi fanno più pensare che l'interpretazione di dire ci sono meno casi gravi e quindi abbiamo fermato quello che è lo spargimento del virus soprattutto nella popolazione vulnerabile e vorrei sottolineare soprattutto nella popolazione vulnerabile credo che sia l'interpretazione più corretta per questi dati. Insomma i dati sono spesso difficili da interpretare